Dall'alba di oggi il personale del Corpo Forestale dello Stato di Vibo Valencia, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con l'aiuto di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato del COA di La Mezzia Terme, sta eseguendo quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di medici, farmacisti e loro collaboratori accusati a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata la truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Nel mese di ottobre del 2012 gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, nella frazione di Caroniti di Ioppolo a Vibo Valencia, avevano infatti rinvenuto, abbandonate ai margini di una strada provinciale, un considerevole numero di confezioni di medicinali, perfettamente integre ed ancora in corso di validità. Durante la prima fase delle indagini sono stati seguiti precisi riscontri documentali per mezzo del sistema di tracciabilità del farmaco e l'analisi di oltre 25.000 ricette mediche per ricostruire il percorso di ogni singolo medicinale, riconoscendo così sia il medico che ne aveva curato le prescrizioni che la farmacia dispensatrice. Le successive indagini, svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vibo Valencia, attraverso numerose intercettazioni telefoniche ambientali, hanno permesso di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale, costituito da farmacisti e studi medici compiacenti, inclini a commettere più reati ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Il modus operandi era così strutturato. La farmacia erogava i farmaci ai propri assistiti in assenza di prescrizioni medica, mentre la regolarizzazione avveniva solo in un secondo momento tra medico e farmacista. In questa fase, quindi, onde garantirsi maggiori introiti, le ricette mediche venivano liberamente gonfiate, mediante l'applicazione di una o più fustelle, bollini e autoadesivi. Il passo conclusivo consisteva nel disfarsi delle confezioni ingannevolmente commercializzate, che finivano con l'essere abbandonate, previa separazione del loro contenuto dalla scatola. In ultimo, il farmacista si adoperava per richiedere i rimborsi all'azienda sanitaria provinciale di Pivo Valenzia relativamente ai farmaci che non erano mai giunti nelle mani degli assistiti. La locale procura ha disposto inoltre il sequestro probatorio della farmacia al fine di quantificare il danno cagionato allo Stato, stimato in circa un milione di euro nell'ultimo triennio.